Musica Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolise. Per l'automobilismo, per il secondo anno consecutivo, Giuseppe Castiglione ha vinto lo slalom città di Campobasso Memorial Gianluca Battistini che si è svolto ieri sulle strade della Gildonese. In un caldo pomeriggio di luglio le curve della Gildonese hanno ospitato il 26esimo slalom città di Campobasso Memorial Gianluca Battistini. Giuseppe Castiglione per il secondo anno consecutivo è il vincitore della gara molisana, per lui la vittoria nella quinta tappa del campionato italiano di specialità. Gara vincente dove tutto è stato deciso nell'ultima manche, Castiglione, Venanzio e Schillace hanno firmato il loro miglior tempo e consolidato la classifica finale. Il driver siciliano su Radical SR4 Suzuki nella terza salita ha fermato il cronometro a 2,27 e 11 centesimi. Alle sue spalle è staccato di soli 29 centesimi Salvatore Venanzio. A chiudere il podio il giovane pilota siciliano Emanuele Schillace, primo nell'Under 23 con il tempo di 2,29 e 41 centesimi. Un podio tutto su Radical SR4 Suzuki. Si è fermato ai piedi del podio Fabio Emanuele su Osella Pia 9,90 motorizzata Alfa Romeo, ultimo tra gli 81 piloti ammessi al via a scendere sotto il muro dei 150 punti, ha chiuso con 149,50 pari a 2,29 e 50 centesimi. Dopo la prima manche non è salito Salvatore Vinaccia, il pilota della Campobasso Corsa e vincitore della quarta tappa, ha accusato un problema alla frizione della sua Osella Pia 9,90 motore e Honda e si è risirato dai giochi. Per la classifica di scuderie ha vinto la Vesuvio ASD. Bilancio più che positivo per l'automobile club Campobasso e la famiglia Battistini. 81 i driver iscritti alla ventisesima edizione della Kermess Molisana, che per la prima volta si è svolta nel mese di luglio, ed in concomitanza con altre gare nazionali importanti. Un'edizione 2018, ospitata interamente e incontrata a Mascione dalle verifiche tecnico-sportive, passando per la gara e chiudendo con le premiazioni. Il lungo weekend dedicato ai motori è terminato nei locali della Cantina Valtappino, che ha ospitato la cerimonia di premiazioni dello slalom, momento di premiazione, ma anche di ricordo di Gianluca Battistini. Abbiamo detto che sono 26 anni e mi diceva proprio Quintino, è possibile che sono passati 26 anni? Sono 26, contiamo le ore, i giorni, veramente li ho contati tutti. Le ore, i giorni, gli anni, gli anni per soffrire e poi per andare avanti. Abbiamo il memorial di Gianluca. Perché per un ragazzo un memorial, uno slalom? Ma perché gli amici di Gianluca sapevano la passione che aveva Gianluca per le auto, per i motori, per le corse soprattutto. E quindi il primo anno hanno voluto ricordare Gianluca. Non so più i nomi, li potrei elencare, ma sono tanti. Sono tanti, quindi qualcuno forse mi scapperebbe per strada. E allora tutti questi ragazzi si sono tassati addirittura per il primo anno e hanno voluto organizzare il primo slalom. Io ho una cosa da far vedere. Renzo, mi dai la borsa? Ci sta una cosa nella borsa? Una targa. Io ho la targa del primo slalom. Del primo slalom di 26 anni fa. Uno slalom. La targa che ricorda il primo slalom. E questa chiaramente, simbolicamente, la dedico a quei ragazzi, a quegli amici di Gianluca che avevano organizzato. Però la tengo per me, grazie. Dicevo, Gianluca quindi ha partecipato a delle gare. La prima gara, non so come abbia fatto, ha un po' barato per la verità. Si è presentato all'ACI, non aveva ancora 18 anni, con una macchinetta che non era... Ecco, potete vederla. La macchina di Gianluca era questa. Certo, non ha niente a che fare con le macchine che voi oggi guidate, con le quali gareggiate. Era una macchinetta da poco che lui si organizzava, praticamente. Quindi a meno di 18 anni ha fatto la prima gara. E dicevo, non so come abbia fatto, all'ACI a passare. E comunque è andato. Non so, non ha vinto, credo. Sicuramente. Ha fatto altre gare. Poi però ha smesso, ha smesso di gareggiare perché io chiaramente ne soffrivo. E lui ha smesso. Poi invece una volta è partito, ma non è andato per gareggiare. Era una gita, una gita semplice, una passeggiata. E non l'ho visto più. Si dice, non mi ha salutato neanche, non mi ha potuto salutare. Va bene, però diciamo che bando alle melinconie perché qui ci sono ragazzi che sono venuti per festeggiare. E io voglio, come dice, come c'è una nota canzone che dice, tutto è bello intorno a noi. Meraviglioso. E quindi anche il dolore può essere meraviglioso, dice la canzone. Rally Giuseppe Teste è stato impegnato nel Rally Roma Capitale per il 3 per Cercese. Un ritiro allo start della sesta prova speciale che di fatto ha compromesso tutta la sua gara. A fermare la gara del Molisano. Qualche problema di elettronica. Il prossimo appuntamento per Teste è con il Rally dell'Adriatico il 23 settembre. Calcio di Serie D a Disernia. Questa mattina alla conferenza stampa di presentazione di Massimo Silva, nuovo tecnico dei Bianco Celesti, torna come preparatore atletico Filippo Argano. Mister Silva, benvenuto a Disernia. Si sta costruendo questa squadra per affrontare il prossimo campionato di Serie D. Si sta cominciando a costruire. Sì, sì, stiamo facendo. Cerchiamo di fare una squadra prevalentemente giovane, ma speriamo anche una squadra pimpante che possa dare battaglia con questi squadroni che pare metteranno nel nostro girone. Ma comunque per noi questo è un piacere. Ecco, abbiamo visto nel girone F quest'anno qualche modifica, qualche squadra pugliese anche stata accorpata al girone. Pare di sì. Se arrivano appunto, dovesse arrivare anche il Bari, squadrone, però ripeto, a noi fa solo che piacere. Noi dobbiamo pensare a noi, ecco, fare una squadra per un campionato tranquillo. Vedo che c'è abbastanza entusiasmo sia nella società che in città, quindi questo mi fa molto piacere e non vedo l'ora di iniziare. Iniziale, insomma, breve perché il 28 luglio è stata stabilita la data del ritiro. Sì, sì, certamente. Anzi, qualche squadra già è partita, quindi speriamo di recuperare subito in fretta il tempo perduto, diciamo. Però sì, sì, siamo quasi pronti. Toccherà lavorare il doppio. Beh, vabbè, a me non dispiace perché sono uomo di campo e quindi, come ripeto, non vedo l'ora di seguire soprattutto i giovani per poter fare un buon lavoro, speriamo. In bocca al lupo, mister. Crepi, grazie. A Campobasso, fase molto calda per le vicende societarie. Ad Agnone prosegue la campagna acquisti. Fase caldissima per le vicende del calcio campobassano. Ora o mai più, nel senso che il Campobasso dovrà effettuare in lega un bonifico attestante alla tassa di iscrizione e l'avvenuta chiusura di quattro vertenze. Il tutto dovrà essere corredato da una fide chiusione di 31 mila euro. Operazioni da fare entro la data del 26 prossimo pena l'esclusione dal campionato di quarta serie. Bisogna agire anche in fretta. Si parla con grande insistenza di possibili cambi al vertice della società, ma di tutto questo per ora nemmeno l'ombra. Soltanto voci incontrollate oppure confidenze che il presidente del Campobasso fa ai suoi amici più stretti. In una di queste, Perrucci avrebbe confidato che entro il 25 riuscirà a mettere tutto a posto. Altre indiscrezioni parlano di Aliberti pronto a raggiungere Campobasso nella giornata di domani. La società ha lavorato molto sotto traccia per provare a coinvolgere soggetti interessati, ad entrare in società di concreto, però non si è mosso nulla. Dunque è legittimo che il tifoso aspetti con ansia e con grandissima voglia di sapere quelle notizie che possono variare la cronaca da un momento all'altro. La comunicazione che è uno fra gli aspetti più rilevanti di una società continua ad essere lacunosa, criptica eppure molto blanda. Il presidente lancia foto e messaggi subliminali su Facebook, ma di chiarezza nemmeno l'ombra. Ormai è un mal costume, per così dire collaudato, del presidente del Campobasso, quello di lasciare solo intendere la realizzazione di un qualcosa che allo stato attuale appare dubbio. I tifosi rosso-blu hanno affisso due striscioni in pieno centro cittadino, diretti all'amministrazione comunale colpevole a loro dire di non voler concedere la gestione dello stadio. La stessa amministrazione viene definita scellerata. Tali scritte, comparse di notte, testimoniano lo stato di agitazione in cui versa il tifo rosso-blu, ma probabilmente mal si conciliano con il contesto nel quale evidentemente di richieste di gestione di selva piana non ne sono pervenute al primo cittadino. L'Olimpia agnonese annuncia un nuovo acquisto. Si tratta del centrocampista centrale Salifu, di origini ganesi. Si tratta di un calciatore classe 95 lo scorso anno in Lega Pro con la maglia del Modena. Salifu è cresciuto nelle giovanili dell'Ellas Verona ed ha accumulato un discreto trascorso proprio nella vecchia Serie C con le maglie di Fermana e Propatria. Si tratta sicuramente di un colpo di mercato importante. La Presidenza lo definisce un giocatore in grado di cambiare il volto della gara in qualsiasi momento in attesa che la dirigenza altomolisana piazzi un altro colpo importante, stavolta atteso nel reparto offensivo. A proposito di calcio, a Milano è nata una squadra di ragazzi molisani trapiantati al norte, chi per studio, chi per lavoro, che sotto il nome di Calcio Cavallo promuovono con sarcasmo e intelligenza il Molise. Allora siamo con Matteo Ferrocino e con Mario Fratino del Calcio Cavallo, presidente, dirigente, anima, factotum, insomma possiamo dire tante cose. Allora partiamo da qui, da questo torneo Madonna del Carmine di Riccia, avete collaborato insomma con un premio alla memoria di Danilo Sabatino. Iniziamo con te Matteo. Sì, ci hanno invitato qua Michele per consegnare questo premio, questo premio ricordo del fratello a Fabiano Sabatino e insomma volevamo essere presenti e siamo venuti qua. Abbiamo consegnato anche noi una targhetta che ci hanno consegnato gli organizzatori del torneo a Milano, zona gol, a posto in memoria di Danilo Sabatino e abbiamo consegnato insomma queste due targhette a tutta la famiglia, insomma siamo felici di essere qua. Una bellissima iniziativa mi collego Mario anche perché devo dire che ne avete fatte subito e come dicevamo poc'anzi continuerete a farle. Sì sì, un bel po' di iniziative in onore di Danilo, una borsa di studio, stiamo cercando di organizzare, poi un torneo in sua memoria a Boiano e poi lui è sempre con noi anche quando giochiamo e non organizziamo nulla per lui, lui gioca con noi. Noi giochiamo a calcio a sette ma da quando lui non c'è più giochiamo in otto e anche grazie a lui abbiamo vinto il campionato a Milano. Assolutamente, molto molto emozionante quello che hai detto quindi ti faccio i complimenti ma anche a Matteo a cui chiedo in qualità di presidenza, di presidente, cos'è il calcio cavallo? Sembra una domanda generica però ti lascio libero di rispondere perché in quanto presidente credo che ti sia preparato insomma a ricevere una domanda del genere. Il calcio cavallo non è una squadra, non è una squadra di calcio, sembra una squadra di calcio a sette ma in realtà è un gruppo di amici, un gruppo di amici che si unisce e ha creato questa squadra come Molisani, questa squadra come hobby, come scusa per riunirsi e fare comunità in una città, Milano, che è una città difficile magari, un po' diffidente all'inizio però poi dopo... Grazie a noi! Questi ragazzi alla fine si trovano bene anche a Milano perché si incontrano e hanno conosciuto anche altre persone, non molisane, cioè non è che facciamo comunità solamente fra molisani, attenzione, noi con questo gruppo solido riusciamo anche a coinvolgere altri gruppi di persone che con noi si divertono, stanno bene con noi e quindi riusciamo a creare diverse iniziative. Poi è nata la pagina, la pagina è nata come scusa perché avevamo insomma dei genitori, i familiari, i fratelli, i cugini, gli amici che ci volevano seguire e abbiamo cominciato così per divertimento, dopodiché c'è sfuggita di mano, adesso si è allargata, si è allargata e devo dire siete stati molto bravi perché a livello comunicativo, perché avete creato questo marchio che poi insomma si vede ovunque perché a volte uno si trova in giro anche per l'Europa oppure per alcuni locali sulla costiera e vede questo marchio che avete esportato un po' ovunque. Abbiamo avuto quest'idea dell'adesivo, il nostro marchio di fabbrica con un calcio morso e gira in tutto il mondo, ci arrivano foto da qualsiasi parte del mondo, sia Africa, Asia, Europa, America e abbiamo una pagina dove tutti i nostri fan pubblicano le foto e a noi fa solo che piacere perché è il nostro nome portato in giro, è il nome del Molise prima di tutto. Chiaramente, vi faccio i complimenti anche io perché insomma ci rappresentate al meglio, credo da molisano e sono fiero io personalmente ma credo anche i nostri coetanei e non di questo marchio, quindi continuate così, esportate i nostri sani principi nel nome del calcio cavallo e del Molise. Grazie, grazie, grazie mille. Una cosa vorrei dire è che il 6 c'è il Boiano Mundial in The Street e il 10 sarà la giornata organizzata dall'associazione Danilo Sabatino Onlus, appunto il ricordo di Danilo e adesso c'è anche in atto una borsa di studio sempre organizzata da loro che scadrà il 4 di agosto. E il 15 agosto, chiunque ci volesse conoscere, facciamo una festa alle 4 via 9 a Vinchiaturo dove speriamo di divertirci. Anche i gadget. Sì, sì, gadget, tutto, tutto. Calcio a 5 di Serie B, mercoledì ultimo appuntamento con gli stage della Chaminade alle 16.30 la palestra Sturzo, lo staff Rosso Plus supervisionerà giovani per allestire le formazioni Under 15, Under 17 e Under 19. Pallacanestro maschile, oggi la nazionale italiana Under 18 lascerà il Molise e gli azzurri hanno completato a campo basso la fase di preparazione per i prossimi mondiali. Mattia Palumbo, allora, è arrivata questa vittoria con la Finlandia, la più sudata delle tre? Beh, sicuramente la Finlandia era la squadra che temevamo maggiormente. Abbiamo avuto un approccio alla partita abbastanza soft e questo nei primi minuti ci ha un po' compromesso l'andamento iniziale della gara. Siamo riusciti poi a recuperare man mano, partendo dalla difesa, mettendo energia e è proprio appunto dalla difesa che abbiamo costruito poi dei buoni tiri in attacco. Molti non sono entrati ma alla fine abbiamo ottenuto il risultato che volevamo. Tra l'altro, grande prestazione difensiva, soprattutto nell'ultimo periodo, dove avete costretto i vostri avversari a tirare quasi sempre fuori tempo massimo o attraverso forzature. Sicuramente nell'ultimo periodo abbiamo fatto un salto di qualità a livello difensivo e siamo riusciti diverse volte a costringerli a tirare negli ultimi secondi dell'azione. Un paio di volte sono stati bravi loro addirittura a mettere dei canestri molto complessi ma alla fine è logico che se metti così in difficoltà una squadra prima o poi la difesa di Premier A e così è stato. Due domande, rapide, rapide. La prima, ci sono questi europei, siete capitati in un girone davvero difficile. Sì, questi europei, il girone in cui ci troviamo appunto, come hai detto te, è molto difficile. Allo stesso modo il girone con cui ci incroceremo è a sua volta tanto difficile. Ma noi non dobbiamo tanto pensare alle squadre che andiamo a incontrare quanto pensare al nostro approccio e al modo in cui noi dovremo giocare le partite. Quest'anno Treviglio, l'anno prossimo? L'anno prossimo rimango a Treviglio. Sono già aperte le iscrizioni per il Boiano Mondial. Dal 26 luglio al 13 agosto tante le discipline sportive protagoniste della manifestazione ospitata ai piedi del Matese. Novità di quest'anno la categoria junior per alcuni sport. Tre tra le serate di intrattenimento. Il 6 agosto la seconda edizione dell'Inda Street per il calcio. 3 contro 3 calcio estivo. Questa sera al via i quarti di finale del torneo Coste del Lago di Limosano. Alle 21 in campo Cicco Team contro l'Angolo Blu. A seguire BOAF affronta ATRM Brand. Scenderà domani in campo a Limosano il Montagano che dovrà affrontare il 6 torni. Invece è stata eliminata la squadra del Nastro Azzurro. Luca Galuppo del Montagano. Dunque hanno detto presidente ma possiamo dire un po' factotum di questa squadra. Eh sì e siamo venuti anche quest'anno. Io la seconda volta che partecipo gli altri anni non sono venuto. Assolutamente assolutamente. Poi insomma vengono dalle persone che poi sponsorizzano i vostri amici per farsi dare una mano. Però diciamo lo fate volentieri. Sì certo. Io ho fatto lo sponsor Pasticceria Ambrosia. No dai è una cosa bella. Comunque è pieno di ragazzi ed è giusto che comunque anche noi aiutiamo in questo. Poi chi vuole può come si dice. E poi questi ragazzi di Limosano sono la fine del mondo dai. Si impegnano tanto quindi è giusto anche così. Vi trovate bene con l'organizzazione? Sì assolutamente sì. L'anno scorso ci hanno privato anche come miglior tifoseria. Quindi no veniamo sempre volentieri. Anche perché è l'unico torneo che veniamo a fare quindi. Assolutamente. Devo dire che insomma ci sono tante squadre ma soprattutto il livello è buono come dicevi prima. Ma soprattutto si è creato un bel ambiente anche con tanta gente che poi segue le partite anche già durante il girone. Certo certo no è sempre pieno di gente poi soprattutto poi vedrete con le fasi finali ci sarà ancora più gente quindi no è una bella realtà e spero continui per per molto tempo. Non sarà facile arrivare in finale ma faremo la diretta la faremo la diretta quindi potrebbe essere una bella cosa anche per voi scherzi a parte ce la metterete tutta. Certo come no speriamo speriamo di arrivarci quest'anno dai. Marco Galati anche tu insomma partecipi a questo torneo con la squadra polisportiva Nastro Azzurro dove è nato questo nome? Beh il nome è nato sicuramente dal terzo tempo come si può notare. Davide Caserio detto il Puma è un amante di questa bevanda che ci ha trascinato nella sua passione. Questo è lo scopo principale della squadra infatti siamo usciti subito al primo turno perché insomma ci abbiamo dato un po' dentro nei terzi tempi. Non abbiamo recuperato in tempo. Sono parecchie defezioni oggi proprio per questo. Assolutamente infatti è stato costretto anche a giocare in porta. Eh sì sì perché ero un po' stanco pure io il portiere non ce l'ha fatta recuperare qualche squalificato qualcuno all'ospedale siamo dovuti giocare abbiamo dovuto giocare in cinque. Ecco per te insomma che qui hai anche giocato insomma conosci benissimo l'ambiente è un piacere tornare poi a stare con l'organizzazione del torneo a costa del lago. Sì 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 l'ambiente è bellissimo sono tutti ragazzi tutti giovani uno dei paesi veramente con più giovani del Molise ogni anno cresce sempre di più c'è tantissima gente i ragazzi di Montagano pure vengono numerosi i ragazzi di Limosano e Sant'Angelo tutte le sere veramente vengono qui riempiono la gradinata. E' sempre un piacere giocare divertirsi più che giocare e vedere pure qualche squadra di categoria superiore che ti delizia un attimino con le giocate. Ecco per te comunque continui a divertirti nonostante insomma sei impegnato con il lavoro però voglio dire anche tu continui già hai visto dove andare l'anno prossimo ancora stai sondando. No l'anno prossimo sono quattro anni che gioco qui con Sant'Angelo e Limosano ancora non decido niente dipende sempre dal lavoro i presupposti qui ci sono per divertirsi per fare qualcosa di insomma meno impegnativo però allo stesso tempo abbastanza competitivo e il progetto c'è vediamo un attimino se diciamo il lavoro si può conciliare altrimenti pazienza vengo a vedere a seguire gli amici. E' terminato una settimana fa il torneo Madonna del Carmine di Riccia 24esima edizione con tante novità il bilancio degli organizzatori. Donato Tronca cala il sipario su questa 24esima edizione del torneo Madonna del Carmine di Riccia allora tracciamo un bilancio. E' andato benissimo c'è stata tantissima gente le due squadre si sono comportate bene c'è stato un grande calcio abbiamo visto belle giocate e si è portato via il trofeo la squadra più più forte la pezza di Tarino. Tanto fair play durante tutto l'arco del torneo nota sicuramente positiva anche questo ritorno alla terna arbitrale FIGC che ha riscosto successo. Sì quest'anno c'è stato il ritorno della FIGC sono contentissimo da tanto tempo ne parlavamo con il presidente di Cristinzi sono felicissimo poi ci sono stati gli albitri e è andato tutto benissimo c'è stato come si dicevi tutto il grande fair play da parte dei calciatori quindi è andato tutto bene. Avete collaborato bene anche con il nuovo comitato feste della Madonna del Carmine in sinergia comunque per questa giornata finale per celebrare comunque la patrona e regina di Riccia. Sì abbiamo collaborato con il nuovo comitato il presidente è stato subito risposto a starci vicino anche con il comune di Riccia che ci ha dato il patrocino oggi stavano tutti quanti qua il sindaco i consiglieri con l'Avis che ci ha dato il defibrillatore c'è stata tantissime persone attorno a noi ne sono felicissimi di tutto questo. 2018 ventiquattresima edizione 2019 però vuol dire 25 forse alla prima edizione non si credeva di arrivare così lontani. Tanti anni fa quando il parroco che proprio quest'anno è stato a fare la novena per la Madonna del Carmine mi disse se potevamo fare qualcosa per la Madonna del Carmine noi a Riccia siamo molto devoti alla Madonna del Carmine ci teniamo tantissimi e lui mi spinse a organizzare questo torneo. Io ero un po' incredibile all'inizio ma dopo lui con la sua carica è un sacerdote molto dinamico vedete la carica e siamo arrivati oggi alla ventiquattresima edizione già stiamo lavorando per la venticinquesima sarebbe un quarto di secolo e ci stiamo preparando già da adesso speriamo che riusciamo a fare le cose in bene. Michele Tronca organizzatore del torneo Madonna del Carmine insieme alla tua famiglia un altro anno è passato un altro anno di gol di emozioni di soddisfazioni per voi che lavorate duramente. Sì siamo giunti alla ventiquattresima edizione del torneo di calcio della Madonna del Carmine e quest'anno possiamo dire che abbiamo messato un'edizione particolare perché ci sono state un paio di novità ossia il ritorno alla terna arbitrare federale quindi con la collaborazione del Comitato regionale Molise con le persone del presidente Di Cristinzi, Santina Bompermaier, l'avvocato Michel vicepresidente che sono venuti anche durante la finale e ci hanno onorato il torneo e in più quest'anno abbiamo deciso di dare spazio a tutti. All'interno del torneo dei big ci sono state delle partite amatoriali tra Evergreen, c'è stato un paio di serate al calcio femminile, sono venuti i ragazzi del centro spar di Riccia per dare anche un segnale di pace, insomma è stata un'edizione diversa rispetto alle altre. C'è stato come di consueto un grande pubblico al poce e questo sicuramente vi spinge a fare sempre meglio, a fare sempre di più per questa manifestazione? Sì, sono contento che anche quest'anno il pubblico ha risposto alla grande, il pubblico riccese soprattutto e sono contento perché abbiamo iniziato la fase eliminatoria con un clima non amico e quindi è stato più difficile poi andare avanti ma fortunatamente il pubblico ha risposto alla grande e quindi lo ringrazio come ogni anno e lo aspetto per l'anno prossimo. Cosa si può migliorare in vista della 25esima edizione che sarà un traguardo importante? Sì, come dici tu, già arrivare a 25, un quarto di secolo, già è un passo abbastanza importante, poche manifestazioni nel Molise raggiungono questo traguardo, poi a noi è anche una manifestazione che dura circa un mese, quindi ancora più difficile da portare avanti. Il segreto secondo me è la passione che trasmette mio padre Donato Tronca, senza la sua passione, la sua competenza, la sua continuità sarebbe difficile continuare ad andare avanti. Bene, è tutto per questa edizione del nostro TG Sport, buon pomeriggio.